E in particolare tre amici che vengono da Bari, Gliere Pati, Sant'Ono dell'Uomo e Pagolo. Allora, adesso entriamo un po' nello specifico. Diciamo che sarà importante in questo momento fare la parola a due persone che interpretano un po' lo stile di questa applicazione. Ah, dimenticavo gli amici del momento 5 Stelle. Meglio non dimenticare questi periodi. Allora, io passo la parola a Mario Beccarello. Antonio, fortemente, visto che non siamo per le rock stars, possono spegnere questi pari e accendere le luci di sale? Allora, Mario Beccarello, leader del movimento Siamo Tutti Briganti, per motivare un po', diciamo, quelle che sono le posizioni che hanno determinato questa adesione. Vi saluto tutti, vi ringrazio per aver compartecipato, così come stiamo facendo noi, pari tra i pari, questo associazionismo che ha un concetto basilare, quello di difendere i diritti del popolo napoletano, ma meridionale, come diceva Enzo, un po' anzi, fortemente insultato tutti i giorni, da troppi anni, sul vivere comune e sul vivere quotidiano. Quello dell'assicurazione è uno tra i tanti temi che ci penalizzano, ma è molto importante perché è un obbligo di legge. Gli altri diritti possono essere sottratti a tutti noi, però è anche una scelta individuale che noi ci poniamo sul corrispondere su certe cose. Ma quando si tratta di un obbligo di legge, non c'è più la libera facoltà di corrispondere o meno a un dovere o di pretendere un diritto. Si tratta semplicemente di sottostare ad una normativa. E quando questa normativa è iniqua, in termini così evidenti, così chiari, da essere testimoniata non solo da chi la subisce, che ne avrebbe tutti i diritti di farlo, ma è testimoniata dalla grande stampa, dai media, dagli amministratori, dai governanti, da coloro, e questo è il paradosso, che sono gli stessi che ci hanno imposto l'iniquità di questa normativa. E allora, amici cari, io non mi porrei il problema di chi sta usando la voce, di chi sta cercando di mettere insieme le proprie risorse, per quanto minime possano essere di fronte a un'ingiuria così grande e così forte, perché le ingiurie portate dallo Stato sono delle ingiurie troppo grandi per il semplice cittadino. Forse lo sono anche per l'associazionismo, perché lo Stato è forte e quando lo Stato impone non c'è alcuna reazione che possa sopportare questa condizione. Ma noi ci proviamo, lo dobbiamo fare, è un nostro diritto, non si può continuare a sopportare senza far nulla, perché in questa maniera ci esporremo ulteriormente ad altre ingiuglie. Allora, la mia premessa è questa, non distinguiamo troppo su chi compartecipa a questa iniziativa. Io, insieme ai miei amici, l'abbiamo ritenuta meritoria e siamo orgogliosi di contribuire per la nostra piccola vuota parte a questa battaglia, perché di battaglia si tratta. E non mi pongo tanto il problema di chi c'è di fianco o chi sta dietro o chi mi precede nell'interpretazione di questa condizione, perché qui non si tratta di portare avanti un'istanza politica, non si tratta di raccogliere il consenso elettorale, probabilmente qualche speculatore c'è sempre, ma non ce ne puliamo molto, ma qui si tratta di portare avanti un problema comune che riguarda i cittadini, che riguarda tutti noi, che riguarda le nostre finanze, che riguarda il diritto della gente a vedere salvaguardata una giusta istanza. Per cui chiunque lo vuole partecipare a questo evento e da questo evento mi auguro questa onda lunga che possa arrivare fino a Roma, fino ai malazzi del governo. E qui apro una breve parentesi. Qualcuno ha sottolineato perché qualcuno di questo comitato ha ritenuto in tempi non sospetti di approcciare qualche candidato per motivarlo un domani che fosse stato eletto a farsi carico di alcune istanze. C'è poco da... Ci siamo intesi. Dobbiamo essere pragmatici. Io interpreto il sentimento e lo spirito di un'associazione meridionalista, identitaria e territoriale. Sono orgoglioso di farlo. Ci chiamiamo provocatoriamente briganti perché indegnamente cerchiamo di interpretare lo spirito battagliero, di rivalsa, di resistenza del nostro popolo che è un popolo che affonda le proprie radici se mi hanno permettito in una grande storia, che è stata troppo insultata. Noi cerchiamo in maniera immodesta probabilmente di farci forti di questo spirito nella reinterpretazione attuale verso le ingiuglie di oggi. E non mi pongo il problema se a portare distanza in Parlamento domani dovesse essere qualche rappresentante di queste situazioni, qualche rappresentante di queste formazioni politiche che ci hanno e continuano ad offenderci. Ma perché cerco di essere pragmatico? E su certe tematiche bisogna essere più realisti del re. Lo dico perché c'è qualche amico che ha un sentimento particolare per questo termine in sala. Dobbiamo essere più realisti del re perché altrimenti se non sviluppiamo delle proposte e non ci sono degli interrogatori e non c'è qualcuno che le porti nella serie adeguata. Noi potremmo contestare quanto vogliamo, potremmo fare manifestazioni di piazza, ma non otterremo in termini reali, concreti, ciò che ci auspichiamo, ovvero che vengano fatte delle normative che impongano alle lobby delle assimilazioni di recedere da questo risulto, di smetterla, di tastassare e di sfruttare il nostro popolo.